ciao ragazzoli da san potuto 3 eccoci qua in una nuova missione senza passare dal via praticamente il boss di prima l'ho ucciso mettendolo sotto con la macchina praticamente non ho diciamo sparato né niente l'ho messo sotto con la macchina poi sono scappato dalle pattuglie che mi seguivano niente di che niente di speciale quindi diciamo che non è proprio stata ma diciamo che ho avuto anche un colpo di fortuna quindi si diciamo che va bene però io adesso non so qua come diavolo fare telecamera a forse non devo perché non me lo sblocchi ottieni ho già sbloccato e come faccio a cosa a non farmi beccare da questo cioè come diavolo faccio ok dovrei tipo vedere una telecamera riparo riparo mannaggia oh telecamera telecroniamo questo una telecamera non posso fare niente c'è un'altra telecamera qui in zona questa che telecamera mi dai tu questa no si sta spostando vieni qua non mi da neanche se vuoi no dammi un'altra telecamera no si è spostato cavolo non posso distrarre neanche niente cioè cavolo faccio io qua dammi questa telecamera per favore come cavolo faccio sorpassarlo è impossibile ok dove devo andare adesso giù ottieni sblocca ok ho sbloccato tipo no no trovo sopravvissuto ok accende la rete per vedere il cortile dell'ora d'aria no no chi è chi mi ha trovato ma porca miseria oh porca miseria ma chi cavolo mi ha trovato accede la rete per vedere devo andare fino là come cavolo faccio c'è una telecamera qua uh però c'è una telecamera qua ok è una telecamera sblocca devo solo andarmene da qui ma cavolo faccio che non mi veda mille mille guardie non posso neanche tipo distrarlo no non c'ho niente dai comincia a camminare se comincia a camminare di là io mi infilo di qua ok si 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 ce la possiamo fare ragazzi no no ok appena si gira andiamo ancora riparo lì riparo qui lui è lì e noi ce ne andiamo via vai uh punto di controllo no 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 che devo fa' telecamera telecamera sblocca akara no mannaggia di nuovo questo sistema del cavolo uh devo sbrigarmi ok ok questo va qua ma cavolaccio dai dai no 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 poteva sbloccarlo ok perfetto sbloccato ok 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 intercettiamo l'audio intanto che è sempre importante ce li becchiamo tutti eh Raul Rionzo ma chi è così stupido ma teoria c'è no no senti corrado felipe chi è questo dove sei maduli lester eh teatro io studio david scott barton darnel chi sei tu denver paul beatt ron jarrod abbiamo telecamera chi cavolo dove sei raul rionzo qui cittadino white jarrod davis christian man spinozza juan porca miseria allora scommettiamo che è qua dietro li ho visti tutti mentre Daryl Ross Jimmy ahhh cambiamo telecamera andiamo su questa allora agente di polizia no Raul Rionzo eccolo qua quella appoggiata sotto il muro devo farti scendere dal tetto eh come fai guard autorizzato to shoot ok ci siamo ce la stiamo facendo ragazzuole ok perfetto raggiungendo sopravvissuto non siamo interrato guardiando il nostro uomo cazzo sono nei sotterranei eh ma come faccio a passare cioè io ci passerei anche però questo qua ci passa dai spostati esce non esce che cavolo fa questo dove guarda mannaggia appena si gira entra nell'ascensore dai 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 prima di stare dentro giro uno sguardo ok perfetto perfetto vai 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 perfetto bene ragazzuoli allora finiamo qui il video e c'è il sabotaggio quindi riprendermola qua e vi dico che ho la sua donna parla 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 carcerario